È stata parzialmente chiusa per alcune irregolarità riscontrate dai controlli dei carabinieri. Nove gli anziani trasferiti in un'altra residenza sanitaria. Chiusa parzialmente una casa di riposo nel Basso Molise per gravi carenze strutturali e un numero di anziani superiore rispetto alle autorizzazioni. L'operazione è stata condotta dai carabinieri allo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza ai più deboli o disabili. Nove ospiti sono stati trasferiti in un'altra struttura per anziani. Nelle ultime settimane, in concomitanza con il periodo natalizio, sono stati numerosi gli interventi dei militari del NAS nelle case di riposo. Per 19 verifiche sono state rilevate 11 irregolarità per sovrannumero di anziani, carenza di operatori o carenze organizzative. Sono stati inoltre segnalati quattro amministratori responsabili di altre comunità alloggio e case di riposo, sempre in provincia di Campobasso. I controlli nazionali messi in atto d'intesa con il Ministero della Salute hanno portato ad ispezionare oltre 600 attività socio-sanitarie e assistenziali in tutta Italia 27 le persone multate per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi per un totale di 167 mila euro.